Alfredo Fini presenta l'assurdo totò, l'umano totò, il matto totò, il dolce totò. Nella storia, uccellacci ed uccellini, raccontata da Pierpaolo Pasolini, con l'innocente, col furbetto, Davoli, Ninetto. Io sono Ninetto, l'innocente totò e l'implicente grazie. Totò e Ninetto, protagonisti inconsueti di questo film inconsueto, ideato e realizzato dal regista più sconcertante dei nostri tempi, che questa volta ha reso vivo e pensante un nuovo fantasioso personaggio. Volete come compagno di strada? Ma da dove viene? Lei chi è? Io vengo da lontano. Ma per afferrare il significato di questo spirito non proprio santo, si deve vedere Uccellacci ed uccellini, un'ondata gialla di ilarità. Non è nostra intenzione fare troppa pubblicità a questo divertente film. Infatti siamo certi che Uccellacci ed uccellini è un prodotto speciale realizzato appositamente per voi e che tutti dovete gustare. Questa nostra storia è la storia di un calmo cammino verso la felicità, verso le speranze degli Uccellacci ed uccellini, un prodotto robusto e corroborante. Sì, verso le speranze degli ideali dorati, ai quali però padre e figliuolo sembrano volgere le spalle a tratti forse da Uccellacci ed uccellini, un prodotto adatto a questa stagione e a molte altre. Uccellacci ed uccellini è un modo nuovo di vedere in chiave realistica la crudezza del mondo attraverso gli occhi dei giovani. Ma è anche una spiegazione filosofica dei rapporti tra padre e figlio. Aluna, io so il figlio. Me l'immaginavo. C'hai una faccia di chirichetto. Ed è vero, Uccellacci ed uccellini è una cosa grande. Una piccola troupe per le periferie vagabondò. Per campagne e paeselli si scannò Producendo rischiò la sua posizione Alfredo Fini Dirigendo rischiò la reputazione Pier Paolo Pasolini Pier Buon Natale Pier Buon Natale